musica 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 eravamo un milione in piazza due milioni probabilmente se contiamo i bambini tenuti in braccio che quindi non occupano spazio 3 milioni al family day al circo massimo che tiene 300 mila persone basta andare a vedere su wikipedia ma voglio portarmi avanti con il lavoro ogni volta che c'è una grande manifestazione in Italia si è un milione in piazza perché è ormai evidente che in Italia c'è una sorta di regola non scritta che vuole i partecipanti di una manifestazione dover arrivare a un milione perché quella manifestazione quella voce sia effettivamente autorevole più o meno come su youtube e lo fanno tutti a prescindere dal fatto che poi il giorno dopo arrivano delle persone che dicono guardate che un milione di persone sono tante e non ci stanno la fanno tutti questa cosa il family day la farà e ne parlo come se fosse già avvenuto perché so già benissimo chi parlerà cosa si dirà le cose che si grideranno sul palco l'ha fatta la scorsa manifestazione quella dello sveglia Italia un milione di persone per lo meno hanno detto che in tutte le piazze d'Italia sommandole c'erano un milione di persone lo ritengo comunque un dato molto molto improbabile perché una manifestazione vada bene è necessario essere in tanti ma non essere per forza così tanti altrimenti sembrate quei tizi che vanno in giro a chiedere per un amico perché io ce l'ho gigante se effettivamente è vero che le dimensioni non contino e conta come lo si usa nel frattempo un sacco di persone hanno trovato il tempo di indignarsi per questa pubblicità di chea giustamente perché so benissimo che se mi dovessi presentare durante il vostro evento nel quale invitate i vostri clienti a baciarsi e mostrare la loro idea di famiglia probabilmente verrei sommerso dalle radiazioni gay e diventerei anche io gay questo non posso accettarlo quindi alcune persone hanno deciso di boicottare l'azienda svedese quando dico boicottare intendo scrivere un messaggio arrabbiato su twitter essere arrabbiate effettivamente per 12 ore e poi mettere tutto in macchina e andare effettivamente da ikea caro amico non ci crede nessuno che ti farai la casa dall'erua merlaine per vendetta non è così che funziona lo sappiamo benissimo era come il discorso del boicottiamo barilla per un nanosecondo e poi si però a me piace veramente la pasta barilla io comunque credo che comprerò quella ma sarò arrabbiato mentre lo farò la guarderò con disprezzo e poi la metterò sul nastro per pagare alla cassa ma ci sono anche altre persone che hanno portato la politica ad esempio e non ci pensa nessuno agli immigrati svedesi che vengono rimbalzati che è una roba che si legge più o meno come non so niente della svezia a parte che stanno facendo questi rimpatri e che ikea è svedese quindi unirò queste due cose e blam ecco il mio tweet impegnato ma c'è anche chi è contento e l'ho mostrato che cos'è questo una nociolina cosa... ok la barbie ha cambiato corpo oppure non proprio ma sembra una roba particolarmente importante per molti quindi trattiamo questa roba qui il time l'ha addirittura definita il cambiamento più grande nella storia della bambola da 57 anni a questa parte è tendenzialmente una roba molto semplice da in poi la barbie non avrà la stessa forma che ha avuto per tutti questi anni non ho idea se sia cambiata nel tempo oppure no quella sorta di forma che non è esattamente un corpo umano è più un alieno con la testa di un corpo umano perché è una bambola ad ora in poi non è più così ne hanno fatto uscire altre tre versioni in modo ipotizzo che le bambine quando l'acquistano possano comprare un'idea di loro stesse perché ipotizzo che l'idea sia questa rivedersi nel personaggio che assomigli il più possibile a loro stesse al loro corpo senza dover necessariamente imporre il difficilmente raggiungibile per alcune bambine modello del alta 13,40 m pesa 7,50 kg e non so capelli lisci e tutto il resto visto che ci sono anche delle teste diverse quindi con i capelli diversi alcune persone sono contente altre sono meno contente tra quelle meno contente c'è chi dice che lo fanno solo per soldi che è un'ottima ovvietà caro amico non avrei mai immaginato che una società che vende bambole cerca di venderti più bambole per avere più soldi grazie dell'analisi veramente veramente profonda è più o meno come Ikea e quelli che dicono vogliono che le persone vadano nei centri commerciali di Ikea e si bacino per far vedere il loro modello di famiglia e poi comprino un sacco di roba e si quella è più o meno l'idea dietro prenditi una di queste robe billy costa pochissimo che è peraltro il pezzo più venduto di Ikea in assoluto di tutti i tempi probabilmente perché costa pochissimo billy nel frattempo occhio alla super mega gigantesca storia completamente inventata del papa che accoglie Rouhani in vaticano e non nasconde il quadro con le donne nude in vaticano che non esiste in realtà questo è il quadro reale peraltro quello precedente era pure scontornato male apparentemente non importa e comunque possiamo smettere di parlare di questa cosa perché sembriamo quei tizi che si bevono due birre e poi iniziano a parlare della loro ex di 12 anni prima no davvero ragazzi non è così importante l'osso che sono passati 12 anni è soltanto che ne voglio parlare ancora basta questa storia è finita lasciamocela alle spalle se non vi interessasse invece vi lascio un articolo di lega nerd in descrizione normalmente non linko a questo tipo di cose ma in questo caso le risate sono state troppe per non condividere questa roba con voi non conosco l'autore dell'articolo tale matteo però ti faccio i complimenti perché wow ho riso davvero un sacco è una lista dei 25 progetti di kickstarter italiani peggiori legati al mondo del facciamo dei videogiochi e invece probabilmente no visto che la maggior parte non sono andati affatto bene forse qualcosa di positivo magari vi interessa l'articolo perché siete interessati al mondo dei videogiochi in Italia magari semplicemente volete farvi due risate in quel caso boom in descrizione assieme a tutto il resto spostandoci invece in un luogo che conosce un mercato dei videogiochi ben più florido speriamo che The Division non sia una merda gli Stati Uniti ci sono le immagini aeree della sparatorea che ha portato alla morte di quest'uomo ne abbiamo già parlato uno dei cowboy dell'Oregon che appunto è stato ucciso dalla polizia mentre viaggiava sul suo veicolo con l'accusa peraltro di aver cercato di sfondare un posto di blocco la morte dell'uomo è stata molto criticata anche da alcuni politici di destra americani che accusano la polizia della solita brutalità della polizia americana che è una roba che conosciamo e normalmente la polizia americana viene difesa dai repubblicani in questo caso viene attaccata per aver in teoria sparato all'uomo che secondo dei testimoni che erano nel veicolo assieme a lui questo veicolo che cerca di investire un agente sfondando un posto di blocco e si vede benissimo aveva le mani alzate dopo aver abbandonato il veicolo che effettivamente è quello che sembra nel video anche se poi l'uomo inizia a fare qualcosa di strano sembra che stia tirando fuori qualcosa dalla tasca non è chiaro esattamente cosa sia questo è più chiaro che a seguito di quella strana manovra un agente gli spara dopodichè l'uomo rimane in terra per almeno una decina di minuti è un'altra delle ragioni per le quali la polizia viene criticata anche se in realtà non c'è molto da criticare perché basta guardare il video e scoprire che durante quei dieci minuti la polizia non interviene perché ci sono altre persone armate all'interno della macchina morale della favola non sparate sulla polizia ipotizzo adesso so che in tanti dicono è stato un eroe è morto l'eroe è morto come voleva morire un uomo libero eccetera e che semplicemente io non vedo un eroe morto vedo un morto sempre parlando degli stati uniti google deve un sacco di soldi al fisco italiano apparentemente dopo che già apple doveva un sacco di soldi al fisco italiano e ha pagato tendenzialmente e tutta questa roba la sappiamo semplicemente perché è prassi comune a questo punto sfruttassero le regole di commercio all'interno della comunità europea importantissime almeno quanto schengen quindi la circolazione delle persone per i loro fini tendenzialmente pagando le tasse soltanto nelle nazioni dove conveniva pagarle perché magari erano basse e invece in quelle come l'italia dove la tassazione è più alta aprire delle sorte di succursali delle scatole vuote tipo che ne so grande azienda italia far confluire i soldi lì e poi spostarli nell'altra azienda più grande e pagare le tasse lì questo ovviamente è ingiusto e lo stato vuole da google 227 di milioni di euro di tasse per un periodo che va dal 2009 al 2013 soldi che senz'altro verranno pagati gli ha pagati apple sotto le vacanze quindi molti si sono persi la notizia ma è andata così pagherà anche google perché se non paga poi ci sono le more aumenti eccetera quindi semplicemente darà quei soldi e tutto verrà messo a facere non c'è dubbio in ultimo la questione svedese me l'avete chiesto in tanti cosa ne penso è colpa di Ikea ho chiesto a un amico ma se così non dovesse essere in quel caso sarebbe un po' più complicato di così è una roba che riguarda molti migranti ma non richiedenti asilo infatti il ministro degli interni svedese questa roba qui non ci provo nemmeno a pronunciare questa cosa qua e venerdì sono pigro scuse 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 Anders Jaegman o qualcosa ha fatto sapere che da 60 a 80 mila persone verranno rimpatriate dopo che sono risultate non idonee per diventare dei rifugiati di guerra perché dobbiamo ricordarci questa cosa non tutti i migranti sono poi dei rifugiati molti vengono da paesi che non vedono guerra o persecuzione politica genocidi robe di questo tipo che quindi ti danno lo status di rifugiato vengono semplicemente da posti più poveri e cercano di andare in posti più ricchi per avere chance di una vita migliore quelli non sono rifugiati sono migranti cosiddetti economici che per entrare in Europa come in ogni altro paese del mondo devono passare una serie di iter per fare richiesta vedere se effettivamente lo stato li vuole devono entrare fare dei test dipendentemente da che posto è gli stati uniti sono molto rigidi ad esempio sulla loro immigrazione e sulle 163 mila persone che sono entrate soltanto nel 2015 nel paese almeno 60 mila se non 80 mila sono state considerate non adatte a ricevere questo trattamento e verranno rispinte non senza qualche problema perché innanzitutto vai a dirglielo a questi tizi che devono essere rimpatriati a forza ma soprattutto sarà uno sforzo sia economico perché devono essere messi sugli aerei e riportati a casa sia di tempo ci vorranno circa tre anni a quanto pare per rimandarli tutti a casa in tanti ora dicono che non è giusto che dovremmo ospitarli eccetera e sapete che io sono molto aperto per quanto riguarda i flussi di persone le persone che si spostano eccetera ma in questo caso e so che in popolare sono d'accordo con rimpatri semplicemente perché in questo caso non parliamo di profughi di guerra parliamo di persone che si sono unite ai flussi di profughi per entrare in un paese nel quale normalmente sarebbero potute entrare secondo però delle regole che sono molto più dure perché una nazione non può ospitare tutti ovviamente cerca di ospitare momentaneamente le persone che perdono un tetto sulla testa e rischiano di vederci cadere sopra delle bombe accogliere le persone un problema ed è vero l'immigrazione è qualcosa di positivo aumenta il pil arrivano più lavoratori veri sono tutte cose verissime però va fatta con razziocino va fatta con controllo in genere in questo caso i controlli sono inferiori semplicemente perché è una crisi umanitaria per capirci non stiamo rimandando persone sotto le bombe in siglia è gente che viene da altre parti del mondo ma questo è tutto per oggi grazie per aver guardato grazie alla nostra regina per oggi che è Anna si è fatta questa foto con il mio logo sull'occhio grazie Anna foto di Anna e tutto il resto un un abbraccio fate i bravi buon weekend e tutto il resto era una sorta di citazione a Morandi ma è venuta molto male lasciamola andare via così facciamo un fade to black fade to black a Morandi a Morandi a Morandi